Ieri pomeriggio un pauroso incendio alimentato dal forte maestrale è divampato nella vasta area di campagna tra Vitinia e il quartiere Giardino di Roma. La polizia locale, a causa delle fiamme alte, è stata costretta a chiudere la via Ostiense in direzione Roma. Anche l'Atac ha sospeso la linea Roma-Lido, provocando gravi disagi e problemi di sovraffollamento. L'azienda ha messo a disposizione delle navette sostitutive per il collegamento tra i quartieri costieri e la città, che sono stati presi d'assalto dai bagnanti di rientro dall'ultima domenica d'agosto trascorsa al mare. Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, autobotti e un elicottero, ma l'impresa di spegnere il rogo è apparsa da subito molto complessa. L'azione dall'alto, infatti, è stata impossibile per la presenza di tralicci e caviti alta tensione che ostacolano il volo. Per la messa in sicurezza dell'area erano presenti anche diverse pattuglie del decimo gruppo mare della polizia locale e il gruppo antincendio Buschivi Poseidon della protezione civile. Quando l'incendio in serata sembrava domato, il fuoco è ripreso con enorme potenza e ha raggiunto un fabbricato in via del Risaro, facendo esplodere tre bombole del gas che erano all'interno.